Prima di tuffarci in questo video di assoluta curiosità, vi invito ad iscrivervi al canale se siete interessati ad argomenti che non sono soltanto gossip e tv, oppure potrete cliccare su segui sulla pagina FV. Amici di Pausa Caffè Live, bentornati in questo nuovo video di assoluta curiosità perché si parla di prossima pandemia, quindi una prossima cosa che dovremo tutti quanti affrontare, ma cerchiamo di capire perché si parla di questo. Perché potrebbe non avere stavolta origine da cose strane che ancora non si è capito da che cosa è dovuto tutto quello che abbiamo passato, ma stavolta potrebbe avere origine proprio dal riscaldamento globale, quindi dal riscaldamento climatico e dal conseguente scioglimento dei ghiacci. A dirlo sono i risultati di alcuni nuovi studi effettuati su campioni di suolo e sedimenti del lago di Hazan, che è il più grande lago d'acqua dolce dell'Artico. L'analisi ha evidenziato che il rischio di spillover virale, che sarebbe il salto di specie che permette a un patogeno degli animali di infettare anche noi, insomma infettare l'uomo, è più alto nelle aree dove scorrono le cosiddette acque di disgelo. La prossima pandemia potrebbe quindi venire dallo scioglimento degli acciai e in altre parole, perché non ce ne sono altre, l'aumento delle temperature starebbe incrementando così la probabilità che virus e batteri vari rinchiusi negli acciai, che sapere che quando le cose sono frizzate non si muovono, anche a livello virale. Ma la paura è quella che si possano in qualche modo risvegliare e infettare la fauna locale. Purtroppo esistono già esempi concreti nel tal senso, perché è stato monitorato che nel 2016 un focolaio di antracce della Siberia settentrionale ha fatto fare pace e bene a un bambino e infettato almeno altre sette persone. Un'ondata di caldo avrebbe sciolto il permafrost, rilasciando così il virus, che avrebbe poi contaminato una carcassa di renna. Nella regione non si registravano focolai di antracce della Siberia settentrionale dal 1941. Non si tratta nemmeno della prima ricerca scientifica sul tema. Gli studiosi dello Ohio State University hanno infatti riferito di aver individuato materiale genetico da ben 33 diversi virus, 28 dei quali mai visti prima e in alcuni campioni di ghiaccio prelevati dagli acciai del Tibet. Un'ulteriore ricerca, condotta da un'equipe di scienziati francesi, ha isolato invece il virus gigante presente nel permafrost siberiano, riuscendo a renderlo nuovamente contagioso per la prima volta in 30.000 anni. Lo scienziato a capo del progetto, un certo Jean-Michel Claverie, ha affermato a chiare lettere che esporre questi strati di ghiaccio potrebbe essere un vero disastro per il futuro dell'umanità. Il riscaldamento globale, in generale, che ha avuto ruolo anche nella diffusione del Covid, si conferma dunque uno dei principali pericoli per il futuro dell'umanità. E questo, signori, per ora è tutto per questo aggiornamento. Vi ringrazio per l'ascolto e ci sentiremo, se volete, alla prossima.